Un'occasione per condividere questo momento pre-pasquale per fare gli auguri a nome della città di Reggio Calabria, della Biblioteca de Nava e della Pinacoteca Civica a tutta la città, ma soprattutto per condividere e mostrare alla città quella che è un modus operandi di cui andiamo veramente fieri d'orgogliosi, cioè la sinergia e la condivisione tra tre associazioni in questo caso che insieme al Comune collaborano per mettere in piedi delle attività culturali e soprattutto per rendere omaggio a quello che è il nostro patrimonio culturale dando ovviamente un'immagine di promozione della città. La Nassilaos come promotora è riuscita a coinvolgere Calabria di Trolequinte e l'associazione AIPARC per mettere su un programma culturale che celebra in questo caso il momento pasquale ma va anche oltre. Ovviamente l'attività delle associazioni si è intersecata in una serie di attività che oggi siamo qui a celebrare in biblioteca comunale attraverso una lezione, una lezione del dottore Timpano in rappresentanza dell'AIPARC e poi domani vedrà invece il protagonista la Pinacoteca Civica con Calabria di Trolequinte con una lettura di quella che è il tema pasquale attraverso appunto i dipinti che sono presenti in biblioteca. Quindi un ottimo modo per celebrare quelle che sono le festività pasquali ma anche soprattutto di dare un segno e una testimonianza della solidarietà e dell'attivismo culturale in città rappresentate in questo caso dalle tre associazioni. Ci troviamo presso la villetta de Nava della biblioteca dove ospitiamo una mostra filatelica di testi organizzata in sinergia tra la biblioteca de Nava, la Pinacoteca Civica e le associazioni culturali che collaborano in sinergia con l'amministrazione comunale, la Nassilaus, l'AIPARC e la Calabria dietro le Quinte. È un evento importante perché si divide in due giorni. Il primo è oggi, inauguriamo una mostra filatelica e di testi presso la villetta de Nava a cura dell'associazione Nassilaus e della biblioteca de Nava. È importante perché oltre alla mostra filatelica che riguarda proprio la passione di Cristo, l'attenzione dovrebbe andare su un frammento di un evangelario del XII secolo che è custodito presso la biblioteca de Nava e che abbiamo esposto in biblioteca insieme al resto delle opere. Si proseguirà la giornata con un intervento del dottore Pimpano che sarà qui presso la villetta de Nava. L'evento continuerà domani presso la Pinacoteca a cura di Calabria di Turle Quinte dove sarà possibile effettuare una visita guidata attraverso le opere della Pinacoteca e anche assistere a uno spettacolo organizzato sempre all'interno della Pinacoteca. Questo conferma l'obiettivo del settore cultura che è quello della valorizzazione del patrimonio culturale con la collaborazione delle associazioni, quindi dove ciascuno ha un ruolo attivo nella valorizzazione con l'obiettivo comune che è quello di avvicinare il maggior numero di persone al nostro patrimonio culturale, a renderlo, a considerarlo sempre una risorsa condivisa. Siamo in questo evento, questo incontro denominato appunto La Passione di Cristo nell'arte per conoscere quello che è lo straordinario patrimonio pittorico della nostra città conservato all'interno della Pinacoteca civica di Reggio Calabria ma anche il patrimonio librario che è conservato all'interno della biblioteca attraverso queste iniziative culturali in sinergia con l'associazione Anassilaus, con Calabria dietro le Quinte e con AIPARC in modo da poter promuovere e valorizzare il nostro patrimonio. Calabria dietro le Quinte ovviamente sposa queste iniziative, tra le altre cose queste attività fanno parte di un progetto che Calabria dietro le Quinte sta realizzando che si chiama Teatro dell'Anima, le vie dell'arte e dello spirito. Quindi due appuntamenti oggi alla biblioteca comunale con la relazione del professor Salvatore Timpano e domani invece un percorso, una visita guidata alla Pinacoteca civica dove attraverso delle letture sceniche e un accompagnamento musicale del musicista Paolo del Benedetto scopriremo quelle che sono le opere pittoriche a tema della passione di Cristo conservate all'interno della nostra Pinacoteca. E quindi siamo arrivati al Giovedì Santo, non è soltanto un giorno di passione ma credo che sia un giorno felice per la cultura regina perché prima casualmente poi invece causalmente si è configurata un'iniziativa che vede raccolte quattro associazioni a Nassilaus, ai Parc e Calabria dietro le Quinte col patrocinio del Comune, della Biblioteca Comunale e della Pinacoteca di Reggio. Quindi una sinergia che ha portato a configurare una due giorni, come l'abbiamo chiamato noi, dedicato alla passione e resurrezione di Cristo visto sotto tanti aspetti. Quindi sotto l'aspetto filaterico, la mostra che verrà inaugurata di qui a qualche minuto, le arti figurative delle quali mi occuperei io nella relazione che terrò alle 17 in biblioteca, ma poi anche un reading con letture in riferimento alla passione e resurrezione a cura di Calabria dietro le Quinte e il tutto per onorare la settimana santa con una serie di eventi che si riferiscono perfettamente alla situazione di fede e anche stagionale perché quando arriva Pasqua si fermano tutte le cose ludiche ma rimangono quelle che hanno un risvolto serio e quindi parlare della passione e resurrezione di Cristo, trattandolo, trattando l'argomento attraverso le arti mi sembra che sia una cosa non solo seria ma anche veritevole. Questo ringrazio Stefano Iorfida che è sensibilissimo a queste iniziative e anche a Peppe Mazzacua e all'amministrazione che ci mette a disposizione i locali dove si svolgeranno questi eventi. Allora soltanto per aprire questo incontro dedicato alla passione nell'arte figurativa e nella cultura libraria abbiamo potuto vedere in mostra dei testi molto importanti tra cui uno del XII secolo, preziosissimo, conservato nella biblioteca. L'incontro di questo pomeriggio è un bell'incontro perché frutto della sinergia intanto di tre associazioni culturali che non hanno paura di mettersi insieme, non hanno le piccole invidie che di solito caratterizzano, ahimè, le associazioni culturali del XII. Due istituti culturali importanti del comune, la biblioteca di Nava qui rappresentata dalla dottoressa Neri, stiamo pensando la pinacoteca chiaramente, il tutto con il patrocinio del comune di Reggio qui con l'amica Irene Caravro e il dottore Berre. Grazie per avermi ricordato il cognome che conosco. La parola subito quindi intanto all'assessore, poi intervenanno i rappresentanti delle associazioni tra cui l'amico Giuseppe Massacuba, dottore Trompano, relazionerà quindi nella veste anche di responsabile dai pari. Grazie al Presidente Giorfide, io soltanto l'indirizzo di saluto perché è giusto dare spazio ai protagonisti, concordo con le parole di Stefano perché è un piacere come assessorato e come città dare merito alle associazioni che lavorano di Reggio e lavorare insieme in sinergia e che l'amministrazione possa favorire il dialogo tra le associazioni è sicuramente qualcosa di meritorio ma anche mi riempie di orgoglio perché è il modo che mi contraddistingue anche nella condivisione del mio lavoro con i colleghi e lo faccio allo stesso modo con tutti coloro che si affacciano alla porta del mio assessorato. Quindi è un augurio perché si possa continuare su questa scia perché tramite le associazioni noi arriviamo al territorio e ai cittadini ovviamente per informarli di quello che è il nostro patrimonio culturale e ovviamente la nostra missione, quello di valorizzarlo. Quindi con l'occasione vi auguro una buona Pasqua e sicuramente sarà un momento di riflessione e di piacere sicuramente ma anche devo dire di rendere merito a queste associazioni e qui ho subito la parola perché il lavoro che fanno è assolutamente necessario che si sappia. Quindi usciti da qua lo possiamo raccontare. Quindi grazie. Grazie a tutti. Ho visto la mostra che il nostro Stefano ha organizzato. È semplicemente fantastica, molto sensibile. Poi io sono fortemente credente e quindi sono temi che mi appassionano molto. Quindi non rubo altro tempo. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Oggi io realizzo uno degli obiettivi del settore di cultura che è quello di valorizzare il patrimonio culturale ma soprattutto è una conferma dei buone pratiche di condivisione e partecipazione che abbiamo avviato in questi anni. E lo testimonia la presenza a questo tavolo e a questo evento di tre associazioni culturali che lavorano in sinergia con il Comune. Vi posso dire che sono particolarmente felice perché abbiamo lavorato molto, molto sia con le singole associazioni e arrivare a un risultato come quello di oggi. Quindi avere insieme la Nassi Laus, Calabria dietro le Quinti, i Parc, tutti insieme qui a questo tavolo vi posso dire che per me è una grandissima soddisfazione. Vuol dire che queste buone pratiche che noi abbiamo messo in campo in questi anni insieme all'assessore Calabro adesso raccolgono i frutti. Oggi raccoglieremo veramente questi frutti perché la mostra che la Nassi Laus in sinergia con l'amministrazione comunale, con la biblioteca Adenava, ha esposto qui verso la villetta Adenava, è un fiore all'occhiello, un gioiello veramente interessante sia dal punto di vista filatelico ma anche della documentazione custodita nella nostra biblioteca Adenava. Quindi ci dà la possibilità di far conoscere alla comunità il prezioso patrimonio culturale. In questo caso c'è una pergamena importantissima come diceva Stefano del XII secolo. Quindi vi invito tutti ad osservare che è molto preziosa che noi custodiamo con estrema attenzione. L'evento poi si continuerà domani presso un altro nostro importante sito che è la Pinacoteca Civica e quindi grazie anche a Calabria di Dole Quinte che possiamo valorizzare questo sito, quindi siete tutti invitati anche. E tramite questi eventi che sono importanti danno la possibilità di conoscere anche il percorso civico della nostra Pinacoteca che custodisce delle opere veramente importanti. E ovviamente un grazie a Salvatore con il quale abbiamo condiviso tantissimo in questi anni, tantissimi eventi. È veramente una collaborazione sempre nuova e che dà anche lui con l'argomento, con le conversazioni, abbiamo già assistito da altre sue conversazioni, quella di oggi particolarmente interessante perché ci avvia a questa settimana particolare, a questa settimana santa, quindi ci prepara anche spiritualmente a quelli che poi saranno gli eventi religiosi di questa settimana. Grazie a tutti e grazie per la... Mi presento Giuseppe Mazzagù e che è il presidente di Calabria dietro le Quinte, facciamo da... non so, è una tavola rotonda, la moderatrice. Stamattina abbiamo presentato con lui quello che saranno le attività di questa associazione, il 29 aprile facce da bronzi al Teatro Cilea, però in realtà Calabria dietro le Quinte è un'associazione oltre che aperta, che fa tantissime attività culturale in città e ha voluto coinvolgere in questo caso sia le parche che Calabria dietro le Quinte, ovviamente insieme all'amministrazione, per dei progetti particolari. In realtà diciamo che la sinergia con le associazioni cittadine nasce da tempo, infatti nel 2018 abbiamo realizzato un bel percorso su Leonardo da Vinci al Castello Lagonese, con AIPARC, con Anassi Laus abbiamo fatto diversi incontri letterari, ad esempio dedicati alla Magna Grecia nella scorsa stagione, quindi è importante la sinergia e l'unico modo per poter valorizzare il nostro patrimonio, perché l'obiettivo delle associazioni deve essere quello di dare l'opportunità intanto ai cittadini di fruire di opportunità di conoscenza, di cultura, di arte e noi siamo gli strumenti per poter fare questo, quindi ognuno di noi con le proprie idee, con la propria forza e con la propria sinergia riuscire a raggiungere questi obiettivi. Quindi questa occasione come anche le prossime che ci saranno in futuro servono appunto a dare un'opportunità di crescita alla nostra città e a conoscere quell'immenso patrimonio culturale, artistico e storico che spesso e volentieri non si conosce, soprattutto per i più giovani, perché i più giovani io essendo anche insegnante a scuola mi accorgo che non conoscono il patrimonio culturale e quindi soltanto noi attraverso la nostra attività, sensibilizzandoli e dando delle opportunità, aprendo gli spazi culturali come la biblioteca, la pinacoteca e tutto il resto ovviamente il grande patrimonio che abbiamo a raggiungere, possiamo raggiungere questo obiettivo. Quindi sicuramente ringrazio voi per la vostra esperienza perché sarete voi poi a riportare nelle vostre case, nel vostro lavoro quello che in questa occasione e anche nelle prossime riusciamo a riscoprire del nostro patrimonio. Quindi oggi è il primo appuntamento, domani ce ne sarà un altro alla pinacoteca civica alle ore 16 dove attraverso un percorso legato anche all'arte, allo spettacolo perché ci saranno delle letture sceniche sulla passione di Cristo accompagnate dalle note di un violino del docente Paolo del Benedetto, riusciremo a riscoprire quelle che sono le opere pittoriche conservate all'interno della nostra pinacoteca e che rappresentano la passione di Cristo, quindi diversi momenti della passione di Cristo. Quindi sarà una visita abbastanza veloce, nel senso che durerà più o meno un'oretta, però ci farà immergere in quello che è l'arte riscoperta anche attraverso lo spettacolo, appunto le letture sceniche, attraverso la musica. Quindi ringrazio ovviamente il Comune che supporta le associazioni cittadine proprio in questa crescita in queste opportunità di divulgazione, soprattutto di ricerca e divulgazione, perché anche la mostra che abbiamo qui stasera esposta è un lavoro intenso di ricerca. Anni fa abbiamo fatto un lavoro su Leonardo da Vinci, proprio con le stampe dei disegni di Leonardo da Vinci, quindi ancora molto interessante, quindi le macchine di Leonardo da Vinci. Non solo artisti nazionali, ma ricordiamoci che nel nostro territorio ci sono importanti, come Mattia Breti, artisti nazionali e anche artisti regionali che hanno dato un contributo alla crescita dell'arte italiana. Quindi ancora un ringraziamento. Dottore Tiffano, come porto i saluti della Presidente che trovandosi in una settimana di passione speriamo che dal giorno della resurrezione possa ritornare gradualmente vicino a noi. Io voglio dire solamente due parole perché poi mi introducono all'argomento. Allora queste due giornate non nascono accidentalmente perché da una telefonata incrociata siamo riusciti a creare due siti con la collaborazione e il patroginio del comune, quindi impegnando la biblioteca e la biblioteca che mi ha visto ospite, l'assessore lo sa, per mesi e mesi, ma proprio con l'intento sempre non solo di diffondere l'arte, la cultura, la partecipazione dell'utenza, ma nel tentativo, qualche volta sicuramente riuscito di fare conoscere i nostri beni culturali, come diceva, fare entrare la gente in pinagoteca e in biblioteca. Al di là di questo poi la collaborazione è stata così antipolata. Stefano in epoca non sospetta mi dice se giovedì volevo fare una contestazione sulla passione. Lui mi telefona da Torino per dire se giovedì volevo essere anche in pinagoteca, ho detto che io non ho il bene, quindi non potevo dividermi in due giovedì e allora abbiamo, con la collaborazione del comune, abbiamo stabilito di fare giovedì e venerdì, integrare tutte le associazioni in un progetto complessivo e sicuramente con queste immagini di cui parleremo dopo, quindi dovete restare, io dico che rappresenta un tentativo di essere meno provinciali e forse più universali. Grazie. Grazie. Grazie a voi e... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.